benvenuti in questa guida top 7 bastoni tenda di consiglio pro tra questi 7 abbiamo individuato il migliore il consigliato quello con il migliore rapporto qualità prezzo oltre che 5 valide alternative ma partiamo subito al settimo posto troviamo bastone tenda bastone tenda estendibile in ferro con anelli scorri tenda elegante ideale per qualsiasi tipo di ambiente all'interno della confezione vediamo la nostra valutazione nella qualità generale diamo 3 stelle ottima offerta online con ottime caratteristiche complessivamente un ottimo rapporto qualità prezzo il nostro punteggio generale è di 74 punti trovi ulteriori informazioni nel link in descrizione sesta posizione al sesto posto troviamo amazon basics bastone da tenda nero con lunghezza regolabile si estende da 91 fino a 182 centimetri il diametro del bastone di 2,5 centimetri lo rende capace di ecco cosa pensiamo qualità generale davvero eccezionale 5 stelle per la promo sconto per funzionalità diamo 5 stelle in definitiva è davvero buono il rapporto qualità prezzo il nostro punteggio generale è di 81 punti trovi ulteriori informazioni nel link in descrizione quinta posizione al quinto posto inseriamo mv bastone bastone tenda estendibile in ferro con anelli scorri tenda elegante ideale per qualsiasi tipo di ambiente all'interno della confezione vediamo la nostra valutazione una buona qualità generale un'offerta conveniente per le funzionalità raggiunge 4 stelle assegniamo 4 stelle per il rapporto qualità prezzo il nostro punteggio generale è di 80 punti trovi ulteriori informazioni nel link in descrizione quarta posizione al quarto posto non poteva mancare g a r d i n i a 7 elegante set composto da asta per tende estensibile diametro 16 tredicesimi di millimetro supporti lunghezza 8,7 vediamo il nostro parere qualità generale davvero eccellente nell'offerta assegniamo 4 stelle 5 stelle per le caratteristiche sommariamente ottimo il rapporto qualità prezzo il nostro punteggio generale è di 81 punti trovi ulteriori informazioni nel link in descrizione terza posizione nel nostro podio inseriamo amazon basics lunghezza del bastone per tenda da 91 a 183 centimetri diametro del bastone 2,5 centimetri bastone per tenda regolabile vediamo la nostra opinione la qualità generale raggiunge 5 stelle offerta molto interessante un'estrema quantità di funzioni complessivamente un ottimo rapporto qualità prezzo il nostro punteggio generale è di 90 punti trovi ulteriori informazioni nel link in descrizione seconda posizione al secondo posto consigliamo gardini a 23 4203 pratico bastone per tende in metallo con terminali installabile nel telaio di porte e finestre fissaggio senza trapano n viti ideale per ecco la nostra valutazione 4 stelle nella qualità generale favorevole l'offerta con ottime caratteristiche 3 stelle per il rapporto qualità prezzo il nostro punteggio generale è di 95 punti trovi informazioni nel link in descrizione prima posizione vince la classifica amazon basics bastone da tenda nero con lunghezza regolabile si estende da 182 fino a 365 centimetri il diametro del bastone di 2,5 centimetri lo rende capo ecco il nostro parere la qualità generale raggiunge 5 stelle nell'offerta assegniamo 5 stelle una funzionalità straordinaria sopra la media il rapporto qualità prezzo il punteggio è di 96 punti info in descrizione non dimenticare di mettere mi piace iscriverti al canale